Vieni qua su, vieni anche tu, c'è una grande festa, Luca Carboni, 7.32 in questo giovedì 23 agosto, buongiorno amici siete su Subasio, parte la maratona degli auguri, Lina da Napoli fa gli auguri alla figlia, Giulia oggi compie 10 anni, Leandro da Napoli gli auguri a mia mamma che vive a Catania, compie 45 anni, buon compleanno, la mamma si chiama Lidia da parte mia e anche da parte di Antonio, e poi gli auguri anche mio cugino Giovanni Palmieri da Caivano, anche per lui oggi si festeggia il compleanno, auguri ad Alessandro, buon compleanno, ti voglio tanto bene tua sorella Lorella, poi gli auguri a Omar di Villa Strada vicino a Cingoli per i suoi 39 anni da Andrea, Maia, Nicolò e Melissa, gli auguri a una persona speciale Cristiano, anche se siamo lontani ti faccio i miei auguri e nonostante tutto ti penso sempre, così scrive Linda, gli auguri a Nello per i suoi 22 anni che la vita ti sorrida sempre, mamma, papà, Vanessa, Lucia, Giorgio, Valerio e Johnny, da Chiara, Federica e Manuel, siamo in macchina, gli auguri a Francesco, gli auguri a Mirko, dalle sue principesse Alessia e Gaia, da mamma Dina e non può mancare anche da Ramona, poi un bacione a mia moglie Sonia che oggi compie 37 anni, Stefano da Lucca, auguri Lorenzo, sei la luce della nostra vita, la nostra gioia, gli auguriamo buon compleanno per i tuoi 12 anni, papà Graziano, mamma Gigliola e la sorella Arianna da Pontinia, gli auguri per i miei 40 anni, Tiziano da Soriano nel Cimino, gli auguri al mio supereroe Emiliano, che oggi compie 7 anni, da mamma, papà e Giulia, gli auguri a me per i miei 60 anni, Franco di limite vicino a Firenze, sto andando a giocare a tennis, una sfida di doppio a tennis, è giusto, è il tuo compleanno, devi fare quello che vuoi, poi allora i miei più sentiti auguri a mia sorella Arianna, firmato Francesca, poi oggi è il mio compleanno, Chiara da Napoli, me la godo perché sono in vacanza sull'isola di Ponza, gli auguri ad Angelo per i suoi 25 anni, da parte di papà Moreno e mamma Maria Rita, gli auguri ad Attilio per i suoi 65 anni, da Luca, Anna, Claudia e Giulia, gli auguri a Luca di Cervaro, che compie 5 anni, da nonna Lori, oggi è il mio compleanno, 44, è una gioia infinita, Antonella da Rimini, brava, poi ancora gli auguri, questa volta sono tutti per me, vi ascolto dalla Svezia, auguri Bribri, che sia un compleanno di riscoperta e rinascita, firmato Ambra, auguri a me, Imma di Pesaro, vi ascolto tutte le mattine, poi c'è Davide da Livorno, gli auguri a mio cognato Pierluigi, e poi ci siamo, possiamo passare alle persone famose da festeggiare oggi, Rita Pavone compie 73 anni, poi c'è Demetrio Albertini, ex calciatore, che compie 47 anni, uno dei più grandi campioni di basket dell'NBA, Kobe Bryant, va in cifra tonda, oggi compie 40 anni, e anche lui va in cifra tonda, ma dai! Secondo voi quanti anni ha Alex Bribri, oggi? 50, portati da atleta e musicista straordinario, ok? Lo festeggiamo con affetto, auguri a Alex, la vasca sul tubasio, voglio restare tu...